Domen Cernigoi è finalmente pronto per rimettersi a disposizione di Paolo Sosa dopo circa due mesi. Lo sloveno ha lanciato un eloquente messaggio attraverso i social, ufficializzando il suo rientro in gruppo. L'ex Venezia assente dalla trasferta in casa del Milan. Il giorno dopo si infortunò e peggiorò le cose dopo aver risposto alla convocazione della sua nazionale. Ora è pronto per poter dare il suo apporto nel finale di stagione. Sosa ritroverà Braderic assente per squalifica ad Empoli, mentre dovrà rinunciare a Bronne che al Castellani è incappato in un giallo fatale. Il difensore tunisino salterà la gara con l'Atalanta per squalifica. Si spera di recuperare Iomber e Candreva che stanno rientrando dai rispettivi infortuni. Lo Slovacchio è un perno imprescindibile del reparto arretrato e la sua assenza è stata pagata a caro prezzo. Basti pensare che dopo la sua uscita al campo con la Fiorentina, la Sanitana ha incassato tre gol contro i Viole e due ad Empoli. Il recupero di Iomber potrebbe consentire a Sousa di schiare la difesa titolare con Dani Lucchepiro alle lati del centrale slovacco. Non escusa anche una soluzione all'insegna di una maggiore esperienza contro Stekong che potrebbe trovare spazio a prescindere dal rientro di Iomber. Candreva è invece il giocatore di maggiore qualità di esperienza per la fase offensiva granata e la sua presenza sarebbe preziosa per poter sviluppare certe trame di gioco che nelle ultime partite non si sono viste. Di sicuro contro l'Atalanta, Brader ci tornerà a titolare a sinistra. Kastans potrebbe agire sulla trequarti o l'esterno di destra in avanti c'è abbondanza. Diapiontech e Butaim stanno bene e si contenderanno due posti da titolare. Grazie a tutti.